Ciao a tutti ragazzi, qui è CK che vi parla e oggi siamo tornati con il secondo episodio del Road Division 1 Orgoglio Italiano e nel primo episodio ci siamo lasciati con 6 punti nella divisione 9, 2 vittorie, 1 sconfitta e oggi andremo a fare altre 3 partite. Con la nostra bellissima nazionale italiana sperando di riuscire a vincerle tutte e 3, però la vedo dura, speriamo. Eccola qui, bella formazione, vabbè ci vi becchiamo in partita. Ok vediamo il nostro avversario, abbiamo il Barcellona contro ovviamente, prima partita del giorno, speriamo in bene. Ottimo così. L'ho visto? Bella per Insigne! Vai Balo! Balo Kelly signore! Uche gol! E frulla Balo, frulla! Perché frullato il meglio! Cominciamo subito bene signore, è il quarto minuto, prima azione, gol! Vediamo come reagire al Barcellona, cerchiamo di tenere duro perché qua scende una volta e segna con la squadra che c'ha. Bella, Giorginio, dalle Insigne! Bellissima! Uuuuh! Ci sta, ci sta, bellissimo gol! Cioè, bellissimo gol, oddio! Però, Ballotelli poteva fare meglio! Meritava il gol comunque, l'azione, bella la nuova skill di Neymar su, con Insigne, sul nuovo, sul difensore. 2-0, 12 minuti, ragazzi, questo, questo quitta. Lo vedo bello quittoso, questo twitta. Via di lì. Partiamo così. Dalla Balo. Bellissima! Ma tu non ci credo, ragazzi, facevo sto gol, non ci credo, non ci credo, guarda là. Guarda là, guarda là. Sì, guarda sulla linea di pota evitando il peggio. Guarda là. Occhio al centro. Madonna mia, madonna. Gol di rovesciata. Uff. Perché poi i bolucci lì? Vai, i bolucci! Che schifo. Ma che fa? Non gioca? Ma che cazzo? Ma che fa questo, ragazzi? Questo quitta, dai. Su, quitta, su. Dai, non c'è paragone. Su, dai. Te ne faccio dieci. Cioè, se non quitti. Oh, ed ha quittato! Finalmente! Ok, ragazzi. La prima partita è andata bene. Vediamo se ne faccio una in più, dai, perché questa ha quittato al trentesimo. Ci becchiamo alla prossima partita. Nove punti. Ok, ragazzi. Inizia questa seconda partita contro la Juventus. Perché ho visto il primo episodio, eh. È un bel vincubo questa squadra. Madonna. Ok, dai, dai. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Questo lo vedo già più sveglio rispetto a quello di prima. Quindi, questa sarà la vera e propria prima partita. Vediamo come andrà. Mi ha distrutto. Che azione, signori! Che azione abbiamo fatto! Che az... No, vabbè, fuori in gioco. Stai scherzando? Non era mai fuori in gioco. No, assurdo, ragazzi. Cominciano a succedere le prime cose strane proprio contro la Juventus. D'altronde. Bella, bellissima. Dagli all'immobile. Vai, Ciruzzo! Ciruzzo, immobile! Mamma mia, che azione! Questo è regolare! Questo è regolare! 1-0, il 26esimo, finalmente! Ciro immobile! Bell'azione! Con penacia! Dai, andiamo! Andiamo! Facciamo quittare pure questo! Bellissima! Vai, dai, vai, 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 vai! Vai, Verdi! Fuori gioco Ma no, è gol Mamma cazzione, signori Pensavo fosse fuori gioco, ti giuro Doppietta di ceruzzo immobile Ci partiamo in vantaggio, al sessantesimo Andiamo Mamma mia, la stiamo gelando benissimo questa partita, ragazzi Benissimo Bravo immobile, intercetta le linee Buona Mamma mia Signori, questo è gol Lo faccio per voi Madonna mia Ma siamo seri, di quanto è uscita? Sembrava destinata a... Oh no, no Madonna mia Immobile Bellissima, vai Florenzi Vai bello de nonna Dalle insigne A balo Provala Mamma mia Ah politano che sei cresco Dalla corta Per balo Mamma mia che c'ho feca Fa cazzo Buona 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 Ma tu che parata sciesni E fammela una rovesciata Uh, palo Palo Chiellini Ma sei una pippa Vabbè dai, è finita così ragazzi La partita Con questo rinvio Oh E finisce così Bellissima partita Ragazzi L'abbiamo distrutto Sovrastato E ci becchiamo Alla terza partita Signori 12 punti Tra l'altro Ok Iniziamo quest'ultima partita Quest'ultima partita Ancora contro la Juventus L'ultima partita Alla nuna divisione E poi passeremo all'ottava Ancora con una volta Contro la Juve Un incubo Questa squadra Cominciamo Speriamo vada bene Ma vedo che la ghicchia Ma Ha quittato Lui quitta E me l'ha data vinta Signori Titolo divisione 9 Bella così Vabbè ragazzi Ci facciamo un'altra Dai che cazzo Ok ragazzi Iniziamo questa prima Partita dell'ottava divisione Ancora Contro la Juventus Scelta da tutti Assurdo Capito che è la squadra Più buggata del gioco Però Cioè Oh Che cazzo Uh Adesso entra lui La palla Non deve segnare Vabbè Era scontato Ragazzi Era proprio scontato Era scrittissimo Si vedeva proprio Doveva segnare Vabbè Cominciamo bene Ho già capito Come deve andare Sta partita Brutto cross C'è il recupero Hanno spazio per andare in contropiede Insigne Immobile Diamo 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 balo Bellissima Buona così Stava pure sbagliando Immobile Bel gol Bell'azione Facciamo vedere Chi siamo A questo Juventino Qua Non saranno Juventino Però Tutti la Juve Non è possibile Ragazzi C'è un po' di Cacchio Un po' di fantasia Io non lo so Capito che Questo gioco Più giochi di merda Più fai bug E più vinci Però Che cazzo Buona così Buona così Dalla Lorenzo Insigne E' gol 2 a 1 Al 29 Signori Lorenzo Insigne Bellissima azione Orgoglio italiano Vaffanculo La Juve Tutti che si prendono Le stesse squadre Ma andate Affanculo Madonna C'è questo Voleva farmi Due corner Due gol Stiamo scherzando Non è fuorigioco Deve segnare E' ovvio E' ovvio Stava pressando Come che Non riuscivo Più a uscire E' ovvio Che mi segna Com'è cazzo E' possibile E' assurdo Guarda E' assurdo Arriva un certo momento Della partita In cui tu non riesci In tuo gioco E non riesco più A fare niente I suoi diventano Invincibili Perché Calma Gestiamo palla Dalla insigne Dalla balo Vai balo Ma guarda Che culo Che culo Che culo Che c'è Non ci credo Un po' Avermi sbagliato Un gol del genere Il signore è rotto Ovunque suoi Comunque Vabbè ragazzi Finisce 2 a 2 Ci sta Ci sta La prima partita Della divisione 8 Un punto Ci sta Dai Abbiamo fatto Comunque Delle belle partite Oggi Per quello che Siamo riusciti a giocare Vabbè ragazzi Per sbaglio Sono rimasto in lobby Iniziato un'altra partita E quindi Ci giochiamo Un'altra partita Ancora contro il Barcellona E Proviamo a vincerla Seconda partita Della divisione 8 Vediamo No 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 Dove sono i miei Lo sapevo Ma dai Cioè Madonna Dio Cioè l'ho pure seguito Raga Ma ci rendiamo conto Daglierà Vai verdi Dalla Ciro Ciro immobile Il gol Ciruz No Andiamo 1-0 al decimo minuto Stiamo molto attenti Perché questo ragazzo Giorrà Bene Comunque Con il Barcellona Sempre Noi dovremmo giocare meglio La insegna Bella così Dalla immobile Madonna mia Madonna mia Oddio signori No Non ci credo Sì Ah gol Porca miseria Ah no Ciao Sto fatto Mi dà un fastidio Cioè Si apri Proprio Si aprono i buchi A caso Ma perché Perché si aprono i buchi A caso Bella palla per Ciro Bella palla per Ciro Mamma mia Bellissimo Il rigore Oh Ci credo Ma falciato Bellissimo Signori Guarda là Oh Bello Palotelli Freddissimo 2-1 ragazzi Andiamo Andiamo Bello Bello Siamo benissimo Madonna Dio Guarda Buona Buona Vai Palo Madonna Non ci credo Non ci credo Che cano Sta più giocando Questo Ma perché Occhio al pallone Filtrante Occhio a Palotelli Vantaggio che comincia a farsi Importante Due gol da recuperare Ora per gli avversari Beh che segno Che cazzo me ne frega Cioè Guarda questo Tutto un trotto Si mette a giocare Poi Mi fa il culo Cioè Non facile Ci vedremo alla fine Di questa partita Comunque Quasi sicuramente Se questo Non riprende a Giocare Io intanto Cazzeggio Oh Acquittato Ragazzi Bene Questa Era l'ultima Vera partita Di oggi Quattro punti Quattro punti In questa Divisione Otto Ci vediamo Al prossimo episodio Ragazzi Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale E condividete il canale Yeah